Ciao, eccoli i nostri scienziati, tecnici, docenti che si stanno consultando. Siamo sul sentiero che porta Bigliuc per il sopralluogo per il workshop che faremo adesso a fine giugno inizialudio. Il tempo non ci ha tanto accompagnato, guardate che nulla bassa che c'è, però è anche un po' un ambiente fantastico. Siamo quasi arrivati e di fatti non si vede che iniziano ad esserci dei prati che una volta erano pascoli. Si dirada un po', le piante si diradano un po'. Oh, il cielo azzurro che ci accoglie! E a breve arriveremo al Mayen. Alla prossima! Grazie per la visione! Grazie a tutti!